Il martinismo e l'ordine martinista di Francesco Brunelli Introduzione Manca in Italia e in lingua italiana una pubblicazione sul martinismo che dia al ricercatore una traccia di questa interessante corrente esoterica occidentale ed una esposizione critica vissuta che dia un metro per giudicare se a chi bussa alle porte convenga o no tentare in questo terreno un'avventura che marcherà comunque la propria presente vita se vi è realmente un impulso che muove e che spinge ad uscire dal mare della mediocrità e dei condizionamenti cui soggiace la maggior parte delle umane creature grandi o piccole che esse siano nel mondo volgare o profano. Non sappiamo se e quanto potremmo riuscire in questo intento, non sta a noi dare un giudizio ma possiamo confermare che abbiamo cercato di concentrare in brevi note quanto ci siamo ripromessi di voler dire. Quando nel 1953, che sono passati oltre vent'anni, il libro è stato pubblicato nel 1976, fumo ammessi nell'ordine martinista dal figlio del grande Papius, eravamo tanto ingenui da credere che per questo solo fatto avremmo trovato vie e ponti privi di ostacoli e maestri pronti ad ogni nostra bisogna. La realtà fu che dovemmo costruirci da soli, pezzo per pezzo, frammento per frammento. A distanza di anni abbiamo compreso la validità di tale metodo, anche se continuiamo a ritenere che la trasmissione di alcune tecniche fondamentali ai pronti sia indispensabile se non esiste il vuoto nei maestri e negli iniziatori. Vuoto che per contro, più di una volta, abbiamo amaramente dovuto constatare, senza peraltro desistere dalla ricerca, senza distoglierci dalla direzione presa, senza abbandonare tecniche elementari che da soli avevamo appreso e che con il tempo abbiamo migliorato, mercè a porti differenti, capitati non a caso, ma nel momento giusto ed opportuno. Possiamo oggi confidare agli amici che l'approdo al martinismo fu un valido passo dopo anni di ricerche e di delusioni trascorsi in mezzo ad associazioni di diversa colorazione esoterico-culturale ed esoterico-ritualista. E possiamo oggi con serenità affermare che la verità, la tecnica, la strada non può emergere che dal nostro essere, anche se gli apporti esterni appaiono illuminanti e confortanti, soprattutto in virtù della funzione di corrimano che possiamo loro attribuire quando essi poggiano su un piano tradizionale certo. Ed il martinismo poggia su questo piano.